Che significato dà a questa scultura? Che significato? Un po' dei personaggi dell'anima, un po' guerriere, un po' soldate, un po' forme arcaiche, un po' della memoria antica. L'immaginario è ideale, un po' di brantelli di segni reali con una dimensione più puntata. Induiti che vagano, che vanno. Che materiale è stato usato? Terragotta e ferro. La parte modellata è in terragotta, poi verniciata. Ma c'è un disegno che precede queste forme? In genere no, direttamente dalla modellazione. Il personaggio nasce al momento, come posso dire, è un po' suggerito dalla dimensione psicologica del momento, insomma, che poi è sempre un po' collegata al resto dell'umanità. Insomma, questi personaggi che vagano intorno a noi, che sono un po' le nostre guide, che sono la nostra dannazione, insomma, e ripeto, sono un po' questi personaggi un po' immaginari e anche un po' reali. In qualche modo siamo un po' circondati comunque da amici, da amici. e insomma a finanziarmi tutti le nostre idei.